Eccoci come è stato un saluto a tutti e ben ritrovati Vi invito come sempre a commentare numerosi A lasciare un bel like Iscrivetevi da questa parte Arriviamo presto a 20.000 iscritti Allora sulla panchina del Milan Sta succedendo un po' di tutto Diciamo ovviamente in maniera figurativa Perché ci sono indiscrezioni secondo cui Pioli potrebbe rimanere Oggi la gazzetta scrive La permanenza dipenderà Da assetto societario Lasciamo intendere che magari qualcosa può cambiare A livello di società Risultati in campionato E in Europa progetti per il futuro Vediamo io ritengo che Si debba cambiare e si cambierà Dopodiché De Laurentiis ha fatto capire Che Tiago Motta vuole andare all'estero Si parla di Club esteri PSG, Barcellona Questo poi dipenderà un po' anche dagli altri E attenzione perché ha parlato Anche il vice di Conte Stellini Che ha detto Insomma lui ha voglia di tornare Dipende dal progetto Ha parlato Di decisioni che spettano al 100% al mister Posso solo dire che ci voglia di tornare Parliamo di un grande allenatore Il suo segreto è un po' legato alla sua figura Spende veramente il 110% E gli ambienti in cui ha lavorato Sono trascinati da questa sua capacità Di far capire quanto sia importante il lavoro Sacro santa verità Ritorno in Adipende dal progetto Che gli verrà proposto È quello che sta attraendo Trovare un progetto che lo stimoli Come è successo già in passato Tra l'altro Oggi parla anche Scrive Franco Ordine Di Conte Di questa possibilità Il Milan è una bella squadra di calcio Che gioca calcio Un buon calcio Dice il vice di Conte Ha avuto un po' sfortuna sugli infortuni Lo scudetto non è una tappa da cancellare Deve continuare a sognare E poi il giornalista che l'ha intervistato Flavio Tassotti È rivelato Si è soffermato a parlare del Milan Tanto che io ci scherzo Su dicendo Vedo che sul Milan è molto preparato Ovviamente ha spazzato in tribuna Così riporterà di rosso nera Quindi Diciamo Tre nomi oggi Poi qualcuno accosta anche dall'estero Il nome di Potter Al quale credo poco Pioli che vorrebbe rimanere Conte E poi Tiago Motta Che però sembra voglia andare all'estero L'incastro che cosa partorirà Ditemelo qui sotto voi Nei commenti È comunque bagarre Anche se La notizia che ci riporta Luca Mamulano Il nome nella testa di Ibra Più che nella testa Ancora di più È quello di Antonio Conte Iscrivetevi Mi raccomando a questa parte Commentate Un saluto